Eccoci e bentornati sul mio canale, il nuovo video di news su Call of Duty Black Ops 3. Iniziate subito a supportare il video con un mi piace ed iscrivendovi al mio canale e quindi partiamo! Ottime notizie per tutti i videogiocatori su piattaforma PC. Infatti Activision ha annunciato tramite Steam l'evento Activision Publisher Weekend. Da ieri fino a lunedì 19 aprile i suoi titoli saranno disponibili a prezzi scontati. Ovviamente noi andremo ad analizzare i videogiochi di Call of Duty che vengono anch'essi proposti a prezzi davvero molto interessanti. Vi elenco qualche titolo mentre praticamente nell'articolo che trovate sul mio sito internet, che trovate qui sotto il link in descrizione, troverete l'intera lista, l'intero catalogo dei giochi scontati in questo fine settimana. Troviamo ad esempio Call of Duty Black Ops 3 a 35,99€ quindi con uno sconto del 40%, Call of Duty Coast a 19,79€ con uno sconto del 67%, Call of Duty 2 a 9,99€ con uno sconto del 50%, Call of Duty Modern Warfare 3 con uno sconto del 50% viene proposta a 19,99%, Call of Duty Black Ops 2 a 19,79€ con uno sconto del 67%, Call of Duty Black Ops a 19,99€ con uno sconto del 50% e Call of Duty World at War uno sconto del 50% con un prezzo di 9,99€. Ovviamente ci sono in offerta tutti i titoli di Call of Duty e anche i DLC e tanti altri titoli dell'Activision, quindi vi rimando sempre al link in descrizione del mio sito internet dove trovate l'intero catalogo dei giochi scontati. Voi quali titoli prenderete? Ovviamente rimanete sintonizzati sul mio canale YouTube e sul mio sito internet per tutte le ultimiste notizie del mondo di Call of Duty. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.